Can't touch this. L'oggi in poi sarà il sabato. Sei strano. Sabato! Che peccato, stavo solo sognando, però che bello se si amerasse. Non voglio questo. E adesso state bene attenti, la riconoscete questa pergamena? Mio nonno è porco con me. Mia nonna mi diede il lucchetto, mi disse che chiudeva un grande tesoro. Lo porto sempre con me perché lo trovo bellissimo. Ragazzi, questa è una... Attenzione, pronti! Portenza! Siamo pronti! Accentiamo i motori! Ripasserò un'altra volta. In questo momento mi sento un po' confuso. Il mio regno di Kalendar era una grande fica. Dopo la morte di mio padre, il mio papà è partito per cercarlo. Capisco. Dobbiamo assolutamente darti il nostro aiuto. No, 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 no! Tieni il dosso! Tieni il dosso! Sei bellissima che così... Eh? Non sono più bello! Sento qualcosa... Andiamo! Allacciate le cinture di sicurezza! Ohhhh! 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 Certo, scaduto! Eliminata! Ciao, ciao! La principessa ha deciso di fuciare il suo lungo pip! Aspetta, Beppi, sei un uomo, no? Non cominciare mai qualcosa che non puoi finire! Che cazzo di eroi, complimenti! Non ho un bello aspetto! Cacone! Cazzo! Vedo un capione! Stai attento, Beppe! Giammi! Cazzo! Ti ho ridotto una polpetta! Oddio, non è possibile! Quella troia lurida di Giuseppe Simone che ci tocca guardando i miei video! No! È possibile! È possibile! Tu che sei? IATTO METAMAN! Fermati! E-ti! Ti-ti! Ferrofan! Cosa? Hai da accendere? Mi succhi le dita dei piedi? Se non te le succhio le lecco, qualcosa faccio! Aaaaaaah! Sono il tuo servo fedele! Dispulso nei comandi! Grazie, Kingstar! Anche noi abbiamo una macchina grande e grossa come Kingstar! Ora tocca a noi, Kingstar! Pronti al taco! La regola del nostro amico Kingstar è colorare la pietà! La regola del nostro amico Kingstar! La regola del nostro amico Kingstar! La regola del nostro amico Kingstar!